Presidente, solo per rimarcare come in questo Paese i problemi sono tutti collegati e una delle criticità che dobbiamo constatare è che impedisce al Paese di crescere, soprattutto certe zone del nostro Paese, quelle più svantaggiate, quelle più retrate, è proprio la sicurezza. Noi abbiamo un potenziale di inespresso, soprattutto fra i giovani, di forze imprenditoriali, di capacità imprenditoriali che non possono esprimersi perché nel nostro territorio non è garantita quella minima sicurezza necessaria ad iniziare qualsiasi tipo di attività imprenditoriale, dalla più piccola alla più ambiziosa. Con questo provvedimento noi affossiamo ancora di più questo potenziale, tarpiamo le ali a questi giovani che vorrebbero intraprendere un'attività perché diamo alle aree in cui vogliono operare maggior insicurezza, maggior instabilità e maggior certezza sul futuro dell'attività che intendono intraprendere. Grazie. La ringrazio.